Ovviamente in questi giorni si è discusso molto del tema dell'aria e tornerò anche a breve su questa pagina per darvi continuamente gli aggiornamenti. Ci tengo a ringraziare tutti i cittadini e le cittadine che hanno compreso l'importanza del tema dell'aria, di quanto incida sulla nostra salute e che hanno anche provato a cambiare le proprie abitudini. Ovviamente anche l'assessore Unia sta verificando e stiamo attenzionando i dati e appena ci saranno informazioni corrette vi verranno date. Vi ringrazio della pazienza ma soprattutto del fatto che ciascuno di noi e voi in qualche modo ha messo anche da parte il proprio personale e stile di vita per dare una risposta alla comunità. È un tema complesso, ci riguarderà per molti mesi e quindi ovviamente ci tornerò su oggi, domani e tutti i momenti in cui sarà necessario. Sì, aggiungerei che questa attività che era dovuta di liberare le sponde è stata fatta di concerto con l'assessore La Pietra alla Viabilità, con l'assessore Unia ai parchi, al Verde e naturalmente con i nostri uffici tecnici. Devo dire che sono stati molto bravi a cercare di fare un lavoro in economia perché non è facile districarsi tra le normative che riguardano le sponde del fiume. Noi adesso abbiamo ancora un altro lavoro da fare che è mettere in sicurezza l'altra parte di questa pista andando da qua dove siamo noi dalla passerella fino al museo dell'automobile. Quella lì è una zona che è stata danneggiata gravemente dal fiume. Adesso abbiamo dei finanziamenti della regione e una parte dei finanziamenti nostri sui quali che utilizzeremo per fare un rilievo delle sponde e poi metterle in sicurezza. Purtroppo lavorare in queste zone che sono tutelate da leggi regionali, da leggi nazionali, da leggi che riguardano i fiumi è sempre un pochino complicato dal punto di vista urbanistico e normativo. I nostri uffici in questo pezzo sono stati bravissimi perché sono riusciti a districarsi tra le norme e lavorare assolutamente in economia. L'altro pezzo è un po' più complicato perché bisogna fare delle massicciate e quindi entrare proprio nel merito dell'alveo del fiume ma anche su quello stiamo lavorando. Bene, grazie a tutti e tutte, sullo smog ci riaggiorniamo più tardi, quindi seguete ovviamente tutti i canali della città, anche il mio personale e noi continuiamo il sopralluogo. Usiamo le biciclette, usiamo le nostre piste!